Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per fare la tredicesima puntata di Edicola. Allora, sono molto felice perché tra un po' arriveremo alla quindicesima e vi mostrerò tutti i giochini di aggeggini che ho trovato e dopo ovviamente ricomincerò sempre facendo sedicesima, settesima, eccetera, finché non arriverò a trenta che poi ve li rimostrerò tutti, tranne quelli che avevo mostrato nelle prime quindici puntate. Ovviamente si moltiplicheranno tantissimo, ma d'altronde ho abbastanza spazio sulla mensola per tenerli tutti. Comunque, oggi con cosa ci troviamo? Beh, con Dragons, i paladini o i cavalieri di Berk. Io amo questo cartone e mi sono scaricata sia Dragon Trainer 1 e anche 2 e così ho deciso di prendere le bustine perché per ora non ho trovato nessuna figures, insomma, nessuna blind bag e quindi ho deciso di prendere solo le figurine. Dopo volevo acquistare anche le figurine di My Little Pony e Monster High, purtroppo però non le ho trovate. E così per ricompensare i My Little Pony ho preso questi, timbra anelli, ce la posso fare. Giulia ce la puoi fare. Però a Monster High non ho trovato niente, giuro che le troverò quelle figurine, lo giuro. Ma per adesso accontentiamoci di queste due cose. Allora, iniziamo subito con le figurine. Vi avviso che questa edicola durerà non tantissimo perché comunque sono cose abbastanza semplici ma che a me piacevano molto perché di My Little Pony mi sto abbastanza appassionando di, appunto, My Little Pony. E inoltre da poco sono usciti questi timbra anelli. Ho visto da pochi giorni la pubblicità. Quindi, sì, diciamo che sono una cosa abbastanza nuova. Prima però di incominciare, oggi finalmente me lo sono ricordato, devo salutare tre persone a cui avevo detto, sì, vi saluterò nel prossimo video. E intanto ho fatto quello di Kitty, quello di Duchess e non li ho salutate. Ho fatto poi quello del Pops Max e non li ho salutati. E così ho detto, oh mio Dio, devo assolutamente salutarli. E quindi, appunto, oggi li saluto. Sì, ragazzi, mi sono ricordata. Scusate se non vi ho salutato. Non è colpa mia, ma mi dimentico le cose. Già, per questo oggi voglio salutare. Allora, voglio salutare Umberto Guarino. Yodo Fanatica Tinista è una che mi segue su Instagram, che sarebbe AskSuperHutu, che non so se si pronuncia così, scusa se non si pronuncia così, oppure che in realtà si chiamerebbe Agnese, che mi segue su Instagram e se appunto mi segue. E mi aveva chiesto di salutarla, perché lei non ha un canale di YouTube, quindi non mi poteva scrivere nei commenti. Allora, saluto queste tre persone. Come al solito, se volete essere salutate, scrivetemelo qua sotto, anche salutati. Bene, iniziamo con le figurine di Dragons. Io dirò Dragon sempre. Come possiamo notare, la bustina è ai lati rossa. E poi ha come questa cornice. C'è ovviamente il protagonista, che sarebbe Icap. E poi c'è Astrid, su Sdentato. In realtà Astrid avrebbe un altro dago, che si chiama Tempestoso. E ovviamente dietro ci sono gli altri protagonisti, che volano nel cielo insieme ai draghi. E qua si intravede anche una montagna. Ovviamente sono panini. E questo è lì dietro. Le ho pagate i 60 centesimi. Ho preso solo tre bustine, perché non volevo esagerare. Anche per vedere come sono. Allora, ne apriamo una. Uh, il di dietro è carinissimo. Guardate, è Sdentato che vola nel cielo. Allora, ah, perfetto. Ne ho trovata una a metà. con il drago di gambe di pesce, penso. Dopo c'è il padre di Icap. Icap nel secondo film, quando incontra la madre, dietro c'è anche. una parte di drago. E poi il drago dei due gemelli. Fantastico. Proprio delle figurine. Fantastico. Poi. Qua, che si ritrovano a faccia con questo mostro. Altro metà drago. Uh. Berk Training Academy. Academy. Uh, che figo. Dopo c'è quest'altro. che penso vada così. No, non va così. Non lo so. C'è, ehm, appunto quest'altro drago. E anche questo. Già. Sto trovando per ora solo a metà parte. Speriamo che questa bustina sia fortunata. Uh, che carino è Sdentato. Parte di Sdentato. Quest'altro simbolo. Uh, è questo. Qua c'è anche il drago infuriato. E qua c'è sempre gambe di pesce. Ho trovato una metà di Sdentato. Sdentato che mangia. Già quest'altro simbolo. Il padre di Icap. Icap ormai è diventato grande. E quest'altra figurina. Il resto sono tutte a metà parti. Già imbarazzante. Cercherò comunque di completare questa serie. O almeno di prenderne alcune. Perché voglio almeno completarle. Che cavolo. Ah. Come al solito io sono sfortunata. Però guardare il lato positivo. Ho trovato lui. Sdentato. E anche questo Berk Training Academy. Già. Le metterò da qualche parte. E insomma. Diciamo che la mia fortuna non è che sia grandissima. Già ho trovato solo mezze parti. Imbarazzante. E diciamo che per ora. La figurina più bella. E' questa. Quindi la metterò davanti. Oh che carino. Oh mamma mia. Che tenero. O stentato. Ed è il numero. 20. Carinissima. Insomma adesso buttiamo queste cartacce. Già. La seconda cosa. Questi timbranelli. Sono questi timbranelli. Dei Miley del Pony. C'è appunto. Sopra il logo Miley del Pony. E qua in questa nuvola. Ce ne mostro alcuni. Dice. Un anello timbro. Più un fanbook. E costa il numero 99. Speriamo che sia qualcosa di decente. Dopo dice. Timbranelli. E c'è Riley. Il draghetto. Di. Appunto. Toilet. Toilet. Rainbow Dash. Pinkie Pie. Applejack e Fluttershy. Lo sfondo inoltre va a variare dal. Va a variare. Insomma varia dal. Dall'azzurro al giallo e poi al fucsia. E si trova anche un arcobaleno. Ed è un'idea. Firestore. Dietro dice. I timbranelli. Indossa di tutti. E non penso che noi abbiamo tutte queste dita. Già. E sono di più di dieci. Anche se ce li metti alle dita dei piedi. Wow. Dopo dice. Sempre Miley del Pony. E dice che dagli a zero e tre anni non si può giocare. Bla 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 bla. E c'è il logo Hasbro. Dice. Ogni bustina contiene un timbranello più un fanbook con tanti giochi da colorare. Inutile. Ok. Questa apertura semplificata non apre niente. Ah. Oh fantastico. Possibile che anche con l'apertura semplificata io non riesca ad aprire una bustina. Sì. Può essere. Ok. Prima di aprire voglio dirvi che non ho trovato l'immagine di Twilight. Speriamo che ci sia e che trovi quello. Almeno il suo Qtmart. Mi renderebbe felice. Ovviamente io non lo troverò. Cerco di non capire quale sia l'anello. Ecco. Vediamo prima il booklet. Allora dice. Allora. I timbranelli fanbook. Allora dice. Timbranelli favor. E qua vabbè. Parla un po' dei personaggi. Già. Io vorrei tanto trovare Twilight. Ma se non trovo Twilight vorrei tanto Applejack. Perché è un mio secondo personaggio preferito. Vediamo cosa ho trovato. Auguri. Iii Applejack. Che carino. Speriamo che mi entri. Allora. Questo è l'anello di Applejack. E come possiamo notare si trova in questa. Con le plastichine. È fantastico. Non riesco a toglierlo. Magnifico. Ah. Bene ecco. Ci sono riuscita. Qua. Come timbrino. Fa il cutie mark. E qua c'è un'immagine di Applejack. Speriamo che mi entri almeno al mignolo. Ah. Sì. Ed è abbastanza carino. Ah. Ecco perché qua c'era l'immagine di Applejack. Benvenuti nel fantastico mondo dei timbranelli. Ogni gioiello nasconde un magico timbrino. Divertiti a collezionare tutti i preziosi anelli con i tuoi personaggi preferiti. Nome Applejack. Colore arancione. Caratteristiche. La valiosa e onesta. Molto spesso si vede al lavoro nella sua fattoria. giardino dolci mele. Ma. Intenta raccogliere mele dagli alberi. A trainare con un carretto. O a vendere al mercato di Ponyville. Qua dice anche di timbrare. E noi timbriamo decentemente. Fantastico. Ecco il mio timbro. Yuhuu. Proprio timbrato fantasticamente. Si nota che è una mela? Apple. Vabbè qua ci parla un po' di Applejack. E dobbiamo colorare. Oh mamma mia. I timbranelli. E come pensavo? Ah si c'è quello di Twilight. Io pensavo di no. Ok. Beh sono abbastanza carini. Certo però se macchiano tutti così. Oh mamma mia. Peccato che non mi sia uscito quello di Twilight. Ma è abbastanza carino questo. Già. E penso che potrei anche timbrare ogni tanto. Decentemente. Già. Ok. Mettiamoli qua. Buttiamo tutto a terra. Sì. E' fantastico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente mettete un like e iscrivetevi. Devo dire che questo anellino mi è abbastanza piaciuto. Anche se preferivo Twilight. E le figurine. E le figurine. Certo. Ovviamente con la mia sfiga mi sono capitate tutte e metà. Però. Stentato era carino. E in fondo. Dai ho avuto anche questo simbolo di Berk Training Academy. Quindi. Sì va bene. Sto bene. Sto bene. Sì sì. Se volete sapere quale sarà la mia prossima review. All'inizio avevo deciso di non dirvelo. Però sì. Forse vi metterete un po' a ridere. Ma. Sarà su Tom and Jerry. Lo so. Può essere abbastanza divertente. Ma è vero. Già. Sarà su questo. Tom and Jerry. Space Jerry. Bene. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ecco. Appunto. Le cose che ho trovato. Ovviamente. Seguitemi. Grazie per seguirmi. Gli iscritti. Sto per arrivare più o meno a 1400. Penso 1500. Vabbè. Grazie. Mi raccomando. Se vi piace il mio canale. Dite agli altri di iscriversi. Eccetera. Noi ci vediamo. E alla prossima. Ciao.